A breve, Pokémon Spada e Pokémon Scudo compieranno un mese e credo sia giunto il momento a questo punto di esprimervi in un video la mia opinione critica pesando tanto i pregi quanto i difetti di questo gioco. Ho infatti notato come troppo spesso anche le opinioni più critiche tendino a lasciar passare i propri sentimenti in maniera eccessiva, non riuscendo purtroppo ad esserlo appieno. Ed è tenendo a mente questo ostacolo che si pone a chiunque voglia dare una valutazione oggettiva che cercheremo di andare ad esprimere un giudizio obiettivo su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ci tengo però ad essere trasparente nel mio giudizio. Troppe volte mi sono accorto ad un commento negativo sui titoli non corrispondeva poi un voto altrettanto negativo e questa è chiaramente una cosa che noi vogliamo evitare. Perciò darò al gioco un voto per ogni parametro di giudizio che utilizzerò per poi fare una media generale finale e vedere dati alla mano che voto esce fuori. E ad al proposito i parametri che utilizzerò per il giudizio sono i seguenti. Comparto tecnico, comparto sonoro, trama, post game, gameplay e direzione artistica. Poste queste premesse direi che è arrivato il momento di addentrarci nella questione. Benvenuti nella recensione a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Comparto tecnico, 7 più su 10. Non serve ve lo dica io, uno dei tasti più dolenti dei titoli di ottava generazione è indubbiamente il comparto tecnico. Le sbavature che ci sono e sono prevalenti all'interno del titolo non ci devono però far dimenticare alcuni picchi di qualità e di cura che comunque sono presenti. Se sicuramente le Wild Areas sono a livello grafico insufficienti, l'altare di Zazia e Zamazenta presso il bosco assopito è curatissimo. E raggiunge a mio avviso un livello grafico che anche Let's Go si sognava, quindi è sicuramente un passo avanti. Se molte animazioni restano stilisticamente terribili, vedasi doppio calcio ma potrei citarvi altri esempi, vi sono anche altri casi come ad esempio la mossa a spalle al muro di Phalanx in cui l'animazione è terribilmente e clamorosamente curata, dettagliata e intelligente. I background durante le battaglie sono molto spesso generici come abbiamo potuto vedere all'interno delle palestre o addirittura in altri casi errate. Ma sempre rimanendo all'interno delle palestre, le battaglie con il capopalestra sono rese in maniera ineccepibile anche grazie all'intervento grafico. Merita tal proposito come menzione d'onore il fatto che tra il dialogo del capopalestra e la sfida effettiva non vi sia praticamente transizione. O per meglio dire che quest'ultima si è resa talmente fluida a livello grafico da non accorgercene nemmeno, cosa che nei precedenti titoli era pura utopia. Per quanto riguarda i modali dei Pokémon, anche qui pregi e difetti. La caratterizzazione in overworld dei Pokémon a mio avviso è sublime. Elgiem si teletrasporta al nostro passaggio, Stanfisk si nasconde sottoterra tentando di intrappolarci al nostro passaggio, Phalanx marcia. Se da un lato ciò rende a mio avviso l'avventura all'interno delle terre selvagge in particolare veramente gratificante, non si può dire lo stesso per il fatto che i Pokémon girandosi devono ruotare attorno al proprio asse di 180 gradi, con un'animazione totalmente eterogenea rispetto poi all'attenzione che c'è stata nella caratterizzazione del Pokémon stesso. Infine i modelli 3D in battaglia, per quanto possano essere riciclaggi di vecchi modelli, rendono comunque, grazie all'intervento di rimodellazione di shaders, la battaglia molto gradevole a livello estetico. Quindi da quel punto di vista non mi sento di fare particolare critica. Tanti elementi di contorno poi, dalle cutscene finalmente inserite nel gioco con una logica e finalmente emotivamente valide, ai movimenti osceni, perché quelle oscenità di Zazien e Zamazenta, in particolare nel postgame, non fanno altro che rimarcare l'eterogeneità del lavoro grafico di questi giochi. A tanti lavori, sicuramente al di sotto della soglia della sufficienza, a mio avviso è possibile affiancare anche degli ottimi elaborati grafici. Se quindi il voto non è un 10, ma non può essere nemmeno un 5, credo che la medietà esprima meglio la situazione grafica di questi titoli. Il che è un peccato, perché probabilmente bastava solo un pizzico di cura e di tempo in più per portare questo 7 più ad un 8 e a un 8 e mezzo. Detto ciò, possiamo passare al secondo parametro. Comparto sonoro, 10 meno su 10. Se poco fa abbiamo toccato uno dei punti critici di questi titoli, è indubbio che i Pokémon Spada e Scudo abbiano fatto a livello sonoro un lavoro incomiabile. La sensazione è che il comparto musicale sia memorabile, dalle note celtiche che ci accolgono nelle terre selvagge, fino ad arrivare agli ululati di Zazien e Zamazenta utilizzati come veri e propri strumenti musicali, in una team che peraltro è ascoltabile dopo poco più di un'ora di gameplay. Se il gioco è in grado di trasmettere grandi emozioni, probabilmente si deve anche al lavoro straordinario che è stato fatto in questo campo. Un lavoro che rende il comparto sonoro di ottava generazione all'altezza, se non superiore almeno per varietà, a tutto ciò che il brand ha proposto negli ultimi anni e anche nei primissimi. Necessita tal proposito una menzione d'onore, la team di Rose, che è semplicemente la migliore della storia dei giochi Pokémon. O comunque dal secondo bar a terzo posto a seconda dei nostri gusti. Al di là dell'aspetto musicale però, quello specificatamente sonoro a mio avviso è ugualmente eccellente. Fischiare in una grotta o fischiare a Spikeville consente di ascoltare l'eco diffondersi nell'ambiente e la stessa cosa accade con i versi dei Pokémon. Inoltre i passi del giocatore, e questa è una cosa che ho notato ma che di fondo non è molto importante, si sentono finalmente e non vanno in dissolvenza come invece accadeva con Let's Go. Sembrerebbe tutto a posto, allora vi chiederete perché c'è quel meno in quel 10 che dà così tanto fastidio. Il fatto è che ho due aspetti particolarissimi da rimproverare al sonoro che però non ho voluto far pesare più di tanto in quanto inseriti in un contesto di estrema positività. Le scene in cui Ginepro, il capo palestra di Spikeville, tenta di cantare hanno mostrato quanto il doppiaggio sia uno step necessario per creare un prodotto ancora più di qualità sotto questo aspetto. Forse è un aspetto non necessario nell'immediato ma sicuramente da inserire da adesso nell'agenda delle cose da fare. Detto questo, in secondo luogo vi è un'unica team all'interno del gioco che ho trovato clamorosamente sbagliata. Si tratta della host che martella incessantemente i timpani del giocatore quando il giocatore stesso e Hop prendono d'assalto la Rose Tower. E per incessantemente intendo dire anche che durante le battaglie che si affrontano in quel contesto la team non si ferma. Una scelta che forse giustificherei con un tentativo di essere simpatici vista anche la caratura dei personaggi che si stavano affrontando ma che nel contesto generale e soprattutto per quello che arriva dopo ho trovato completamente stonata. E a proposito di ciò che è avvenuto dopo tutto ciò è arrivato il momento di passare al nostro terzo parametro, ossia la trama. Trama, 7.5 su 10. Dare questo voto mi fa piangere il cuore. Ho prima amato e poi odiato la trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo con il risultato che ad oggi faccio ancora fatica a digerire come sia stata trattata. Partiamo dalle basi. Si potrebbe dire che l'intera trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ruoti attorno al fraintendimento delle leggende di Galar. Ciò porterà il protagonista principale, Sonia, ad indagare sul fenomeno della notte oscura una catastrofe che in tempi immemori portò Galar alla quasi totale distruzione. Così facendo la trama non si sviluppa principalmente per eventi ma per dialoghi. E anzi alle volte sono eventi che con la trama in questione non hanno nulla a che fare che creano i presupposti per richiamare in causa come se fosse una sorta di ombra che segue le nostre avventure per diventare campione il tema della notte oscura. Procedendo con ciò si arriverà alla lega Pokémon senza aver partecipato ad un singolo evento che abbia a che fare con la trama in senso stretto. E vi dirò anche se qualche quest secondaria non mi avrebbe fatto dispiacere già ai tempi a me stava bene. I personaggi dell'ottava generazione sono sui livelli di quella di quinta Hop incluso ci farò un video a riguardo. Il team Iela ad un certo punto si rivela molto più interessante e il suo leader ossia Ginepro è protagonista di uno dei momenti più toccanti della storia dei videogiochi Pokémon. E la trama in sé è profonda. Si parla di rivoluzione industriale, di problema energetico, di emarginazione, ghettizzazione, si parla di fair play e di idolatria al tutto intrecciato in una storia della regione che nessuno è in grado di ricordare. Ma mi stava bene perché mi aspettavo che sul finale tutto divampasse e ragazzi fino a Rose è stato così, è divampato. La battaglia con il presidente Rose è una battaglia da cardiopalma per animazioni e per host ma finita quella ragazzi è l'oblio. Eternatus si trova come il peggior necrozma in cima a una torre e affrontarlo sarà dannatamente semplice. Le cutscene presenti in questo momento del gameplay aiutano a non farci caso ma una volta conclusosi l'evento, una volta che si viene ricatapultati a Goal Week in un contesto terribilmente anticlimatico tanto da rovinare anche la battaglia con Dundell in tasca dopo averlo catturato più che Eternatus io ho trovato della delusione. Capirete che un finale di questo tipo getta uno sguardo totalmente diverso su ciò che c'è stato in precedenza. Le card della Lega Pokémon che ho così tanto apprezzato durante l'avventura hanno iniziato ad emanare un odore di beffa. Non era possibile riempire la nostra avventura di alcuni degli eventi raccontati su quelle carte? Non era possibile farci visitare, che ne so, il faro di Killford? Quando Dundell affronta i Pokémon Dynamax che insorgono a causa degli esperimenti di Rose non era possibile far partecipare anche noi anziché vedere un perserker sconfitto sullo smartphone di Dundell? Credo di essermi spiegato. Per quanto la trama sia emozionante da vivere, purtroppo sul finale non fa altro che lasciare dell'amaro in bocca. Ed il post-lega, per quanto interessante, purtroppo non risolve la questione. Vediamo perché. Post-game, 8-10. Questo voto è sicuramente impopolare, lo so, ma permettetemi di spiegare le mie motivazioni. La premessa necessaria per valutare correttamente il post-lega di Pokémon Spada e Pokémon Scudo è riconoscere il fatto che questi sono i primi giochi di una nuova generazione i quali sono da sempre, per definizioni, con un post-lega particolarmente scarno. Questo vuol dire che per dare una valutazione che sia il più possibile coerente con quelle che abbiamo di altri giochi Pokémon dobbiamo utilizzare come pietre di paragone non i post-lega di Smeraldo, Platino e Nero 2 e Bianco 2 ma piuttosto quelli di Rubino e Zaffiro, Diamante e Perla e Bianco e Nero. E onestamente credo che in questo contesto il post-game di Pokémon Spada e Pokémon Scudo competa, se non in alcuni casi, superi i post-game di giochi molto più osannati. Per quanto caricaturali e attratti imbarazzanti, Brando Baldo e Scudo Baldo aggiungono molto alla trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e della loro campagna principale approfondendo anche l'altro lato delle leggende di Galar o quantomeno la loro interpretazione. E nonostante la loro quest potesse finire in una maniera più dignitosa ad esempio con una loro fuga anziché con un loro generico pentimento per le loro azioni ho trovato comunque il tutto molto interessante. Certo, siccome il focus non è su Eternatus ma su Zassian e Zamazenta rimane ancora tutto sommato quel picco di delusione che si è avuto poco prima di incontrarli. Ciò nonostante quello a cui assistiamo con questi due personaggi non è sicuramente all'altezza di un episodio delta ma a mio avviso è superiore ad esempio a un episodio Rainbow Rocket che a conti fatti si è rivelata una trashata. Per come la vedo io, il post-game di Pokémon Spada e Pokémon Scudo batte tranquillamente i post-game di Rubino e Zaffiro, di Sole e Luna, di X e Y e compete, anche se probabilmente non vincendo, con quelli di Diamante e Perla e di Nero e Bianco. La torre lotta è finalmente ben contestualizzata all'interno della trama dei giochi e non è più lasciata come edificio isolato di cui non si sa assolutamente nulla e la Lega Pokémon organizza vari tornei a modi Pokémon World Tournament all'interno dei quali i personaggi che abbiamo conosciuto nella trama principale subiscono anche dei mutamenti. La regione inoltre si riempie di piccole chicche e di card collezionabili che aumentano la spinta al collezionismo nonostante il taglio del Pokédex che alla fine, a conti fatti, non si fa sentire sull'incisività del gameplay. E a tal proposito il completamento del Pokédex che comunque rimane una feature importante per quanto riguarda il post-game l'ho trovato molto più stimolante del passato anche grazie all'introduzione delle terre selvagge e poi non dimentichiamoci comunque del Pokédex che per quanto io non lo apprezzi resta una feature che ha una sua importanza. Urge poi una menzione al multiplayer di cui parleremo più avanti all'interno di questa recensione il competitivo che è stato reso molto più intuitivo rispetto ai giochi precedenti e i vari aggiornamenti che usciranno da qui in poi. Questa recensione uscirà dopo il 4 dicembre ma avrete sicuramente saputo che il 4 dicembre fino a gennaio è stato reso disponibile Snorlax Gigamax all'interno del gioco e ciò avverrà anche con altri Pokémon all'interno dei Pokémon Spada e Pokémon Scudo che verranno aggiunti di volta in volta i leggendari in primis dato che i dati di alcuni sono stati trovati nel gioco e ciò non può che giovare alla longevità di un titolo che è uno dei parametri più importanti alla fin fine per valutare un post-game. Insomma alla fine dei conti ho trovato il post-game di Pokémon Spada e Pokémon Scudo studiato, coerente e intelligente per quanto scarno. Al post-game avrei dato 8 fosse stato solo per questo ma quel meno che vedete nel voto finale è una penalizzazione che ho voluto inserire per far pesare sui due fronti una feature che ha fallito completamente all'interno di questi giochi. Sto parlando ovviamente del multiplayer di cui andremo a parlare adesso. Gameplay 8.5 su 10 Sulla mia valutazione del gameplay ho fatto pesare due aspetti negativi principali. La difficoltà pre-coppa campione che è risultata abbastanza bassa nonostante con il mio modo di giocare io abbia dovuto livellare non poco è il multiplayer. Rispettivamente ho sottratto mezzo punto per il primo fattore e un punto intero per il secondo. Sulla difficoltà il gioco si salva sul finale dove all'interno della coppa campione le sfide aumentano di difficoltà e richiedono un certo livello di attenzione che alla fine è sempre quello che si è richiesto. Ma a noi per ciò che concerne invece il multiplayer credo che ci sia davvero poco da sottrarre alla nostra spada di Damocle. Una feature che sembrava qualcosa di totalmente diverso dai trailer si è rivelato nient'altro che un festi plaza ma all'interno delle wild areas che sono paradossalmente più godibili in single player. Non c'è comunicazione non c'è un sistema di inviti e non c'è nemmeno una corretta gestione per quanto riguarda il matchup e la difficoltà dei ride che sono molto più godibili se giocati con un gruppetto già consolidato di persone con le quali è possibile scambiarsi informazioni riguardo alle strategie da utilizzare per mandare giù un determinato Pokémon Dynamax. Indubbiamente un sistema mediocre che difetta di tante cose che un multiplayer decente dovrebbe avere ma che credo se non fosse stato pubblicizzato così tanto non avrebbe riscosso tutta questa indignazione. A fronte di ciò credo però che una feature come quella del multiplayer negativa non possa cancellare quella che in single player è a mio avviso una delle esperienze di gioco Pokémon migliori di sempre. I Pokémon nelle wild areas emozionano per la loro caratterizzazione e permettono al giocatore di stupirsi ogni volta sempre di più. La possibilità poi di gestire al meglio la crescita dell'esperienza dei propri Pokémon partecipando ai vari ride Dynamax e ottenendone le ricompense rende obsoleto quel sistema di grinding tanto vetusto e che ci ha fatto tanto annoiare permettendoci di alternare alla nostra avventura le wild areas senza che in ciò vi sia un fortissimo calo di intrattenimento. E le stesse wild areas nel corso dell'avventura offrono al loro interno dei Pokémon davvero fortissimi che per un giocatore hard core possono essere una sfida davvero stimolante. E sul lato della sfida delle palestre infine per quanto la difficoltà non sia eccelsa c'è da dire che i puzzle sono forse i migliori dell'intera serie. Infine per quanto riguarda il Dynamax esso rende sicuramente meglio in un contesto competitivo piuttosto che all'interno dell'avventura ma ciò di fatto è quello che è sempre successo pensate ad esempio alle mosse Z. Un competitivo che, urge ricordarlo, anche parlando del gameplay è stato molto alleggerito rispetto al passato e reso sicuramente più godibile anche nella sua fase di building. Detto ciò, credo sia arrivato il momento di passare a quello che per me è il punto di forza maggiore di questi giochi e non sto parlando della colonna sonora. Parliamo finalmente di direzione artistica. Direzione artistica 10 su 10 non trovo difetti, semplicemente. Artisticamente questi giochi sono a mio avviso un prodotto mastodontico. I Pokémon di ottava generazione e le forme galar di Pokémon precedenti sono stupefacenti. Azzardo dicendo che forse l'ottava generazione è quella che ha introdotto i Pokémon migliori di sempre e la regione che li ospita è ugualmente, probabilmente, la migliore di sempre. L'Inghilterra è stata spolpata della sua cultura, della sua storia, della sua fauna ed è stata trasposta magnificamente in un gioco Pokémon. Le città sono ispiratissime, in particolare ho trovato molto interessante Spikeville, una città che riesce benissimo a rappresentare la ghettizzazione dovuta alla rivoluzione industriale e che tratta un argomento maturo in maniera magistrale, seppur caricaturale. Come è accaduto per Blandobaldo e Scudobaldo, si ha la sensazione che quando la tematica diventa eccessivamente profonda la si dia in mano a dei personaggi caricaturali sui quali un bambino non avrebbe alcun sospetto. E per quanto ciò possa non piacere a livello soggettivo a qualcuno, io penso che la satira fatta sia fatta bene e che dal lato artistico ci sia davvero pochissimo da recriminare tanto a un Tmiel quanto a un Brandobaldo e uno Scudobaldo. Insomma, poco da dire e poco da recriminare. Su questo aspetto credo che Pokémon, Spada e Scudo siano i migliori dell'intera serie Pokémon. Considerazioni finali. Calcoli alla mano, il mio voto finale è un 8.4 che però sa di amaro. E sa di amaro perché con poco questo gioco avrebbe potuto raggiungere un voto paurosamente più alto. Bastava più cura. Più cura sul finale, più cura nel comparto tecnico, più cura nella gestione di un multiplayer. E se il problema fosse che il gioco non è curato, punto e basta, avrei l'anima più in pace, avrei l'anima più tranquilla. Invece non è così, non attecchite alla retorica che tutti fanno adesso della pigrizia. Se si è pigri non si creano ambientazioni come quella dell'altare nel bosco assopito, non si creano animazioni belle come quella di Phalanx. Siccome il titolo non è in toto, poco curato, ma è semplicemente eterogeneo, presenta solo dei difetti talmente evidenti che è impossibile non notarli, io temo che il problema non sia la pigrizia, ma sia, come è stato detto dagli sviluppatori stessi, il tempo. E sotto i nostri occhi, ragazzi, non chiudiamoli. Questo gioco a volte sembra essere il futuro, a volte sembra essere il medioevo. Fosse sempre il medioevo, avremmo più l'animo in pace. Perché se fosse sempre il medioevo, allora capiremmo che Pokémon non potrebbe andare oltre, e invece non è così. L'ho già detto, ma per questo gioco io ho la metafora perfetta. Pokémon Spada e Scudo è un tema consegnato in brutta. Un tema bellissimo, con frasi e citazioni perfette, profondo al punto giusto, ma che dà davvero la sensazione di spegnersi in mancanza di tempo. Un tema ricopiato in bella di fretta, tanto che la bella alla fine sembra essere più una brutta che una bella. Scritto per metà con la penna nera e per l'altra metà con la penna blu, con il foglio protocollo al contrario, con gli scarabocchi e gli errori grammaticali, metteteci tutto quello che volete. E l'amarezza, per quanto mi riguarda, sta proprio nel fatto che, nonostante tutto ciò, Pokémon Spada e Scudo sanno essere belli, sanno farsi piacere, però cavolo quanto potevano piacermi di più. Io mi auguro con tutto il cuore che esca un Pokémon Spada e Scudo 2, un Daina Spada e un Daina Scudo, perché voglio godermi Galar appieno delle sue potenzialità, ma sapete che c'è, ragazzi, io ho paura. Ho paura perché nel 2017 hai pubblicato Usum, che non è stato in grado di rendere giustizia a Pokémon Sole e Luna, nonostante avessi già la base di quei giochi. Nel 2018 hai pubblicato Let's Go, che non è nemmeno considerato un gioco della saga principale. E dopo due anni di lavori minori, vedere che anche Pokémon Spada e Pokémon Scudo, difetta di quella cura che vedemmo un tempo, con un Pokémon Nero 2, con un Pokémon Diamante, Perla e Platino, mi fa paura. Perché a noi non serve il gioco migliore di sempre e non lo richiediamo nemmeno perché il gioco migliore di sempre ti viene, non è che te lo proponi di fare. Ma sono tanti anni che temo di non avere mai visto un tema in bella. E spero che quel tema sia Pokémon Spada e Scudo 2 o comunque esso si chiami. Da sempre il secondo titolo è quello che dà più lustro a una generazione, però la domanda è un po' questa adesso. Dopo Ultrasole e Ultraluna, dove la trama di Necrozma è stata ugualmente abbozzata, che cosa mi devo aspettare? Perché non so voi, ma io amo questo brand. Io avevo il 10 da dare pronto a questi giochi, purtroppo non è accaduto. Non è accaduto, ma vorrei che accadesse. E certo, per quanto il mio voto a Pokémon Spada e Scudo sia buono, la sensazione che si faccia sempre più fatica a proporre un prodotto in bella è sempre più prorompente. Un 8.4 che sa davvero tanto di amarezza, ma davvero tanto. Con questo finale un po' triste, ma del resto è ciò che provo, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto già ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video! Grazie a tutti!